Pensavo che ti fidassi solo di me per rilanciare la rivista. Cos'ha lei più di me? Se non fai sognare me, non farai sognare l'elettrice. Chi ci fa? Ho perso il tuo numero. La cosa più semplice era fare un salto qui. È giovane, ha voglia di raccontarlo agli amici, ma non è così. Tu mi piaci.